Mi piace molto il nuoto, sono appassionato anche, guardo le gare degli stranieri, guardo i risultati, guardo i passaggi, cerco su YouTube, guardo spessissimo gare vecchie, anche del 2000-2004, ma anche adesso lo faccio perché mi piace guardarle e mi piace anche studiare, vedo cosa fanno, subacquea, partenza, virata, tutte quelle cose lì, mi piace molto, sono appassionato e penso che questo possa anche aiutare in quello che faccio, perché poi le vedo e provo magari a ripeterle in allenamento e magari viene fuori qualcosa di interessante.